ciao a tutti ragazzi e ragazzi riconosciuti in questo nuovo video oggi andiamo a vedere due acquisti quindi niente di particolare ma ritengo che siano acquisti estremamente diciamo importanti perché questo è appunto ritengo che sia il mio regalo di natale a chiara anche se sì beh ho capito ne ho fatti non so quanti ok va bene a me ovviamente personalmente lo dico subito non mi interessa nulla no allora specifico una cosa perché poi sembra che lui mi compra tutto io non compro niente allora ragazzi no assolutamente cioè prima dovete capire che stavamo discutendo perché gli ho detto ma possibile che a te non piace niente c'è a lui non piace niente c'è manca dire che gli voglio fa qualcosa ma non mi piace da parte mia sicuramente sono più che comprare per me sono più generoso a dare e no è sbagliato invece perché però vabbè non è che non mi sono mai comprato niente però ritengo che al momento tutto con noi proprio parte di che vi stiamo facendo venire il mal di male lui proprio c'è allora anelli non li porta bracciali non li porta orologi non li porta orecchini non li porto vabbè a parte la fede ci mancherebbe altro però altri tipi di anelli calcolate ragazzi esistono per dire anche pandora per uomo ma lui proprio nisba vabbè mi facciamo vedere i suoi eccola qua eccola qua presente allora vediamo oggi di nuovo che c'è ed ecco qui gli acquisti the ball is here scusa in effetti è una palla di pelo allora siamo andati al mercatopoli come ormai saprete bene che noi appunto acquistiamo le cose lì e abbiamo trovato a poco prezzo questo ovvero il portafoglio di michael kors sapete che io da qualche mese ho una michael kors che tra l'altro ragazzi sto utilizzando tuttora adesso è la borsa più comoda ci possa essere perché molto molto capiente comunque c'è il video sul canale se volete andarlo a vedere e appunto abbiamo trovato anche il portafoglio qui c'era la catenina adesso al momento ce l'ho sulla borsa però c'è anche il la catenina diciamo per portarlo a braccio qui appunto si può agganciare alla borsa perché la borsa ha appunto il moschettone per agganciarlo e questo appunto è il portafoglio con argento con l'hardware argento scusate appunto anche la mia borsa ha lo stesso hardware quindi direi che va più che bene la cerniera come potete vedere ragazzi il portafoglio è nuovo non è stato mai utilizzato i prezzi li diremo dopo c'è quello insomma per aprire dove c'è scritto michael kors e all'interno adesso ci ho messo le mie cosine ragazzi qui vi faccio vedere i miei dati altrimenti vabbè qua c'è lo spazio per aspettate per i soldi vedete qua spazioso qua abbiamo lo spazio anche per le monete e qua appunto ci sono tutte le varie tesserine che al momento non vi faccio vedere perché ci sono i dati sensibili comunque se lo trovate ragazzi prendetelo io in realtà il prezzo originario non l'ho ancora visto mi sono dimenticata dal sito andarlo a vedere giusto a noi ci piace andare a vedere quanto risparmiamo quindi poi andrò a vedere appunto il prezzo originario magari qua da qualche parte quando marco editerà questo video lo ve lo scriverà il prezzo originario così andate a vedere poi quanto abbiamo risparmiato poi allora vedete il mio tiffany no ragazzi non ho comprato un altro bracciale questo è il mio classico tra l'altro ce l'ho ormai da un anno ma abbiamo trovato questo allora questo qui è il ciondolino tiffany originale tra l'altro sempre preso ai mercato al mercatopoli questo qua appunto è il ciondolino che ho voluto mettere nel bracciale ma si può anche utilizzare come collana però la collanina che io al momento anche quella di pandora comunque troppo leggera perché questo qui pesa un botto ragazzi è troppo leggera quindi ci vorrebbe teoricamente la collana proprio di tiffany però sinceramente io non la compro perché costa tanto quindi l'ho messo qua allora abbiamo vedete la tiffany co 925 1837 si ok in quell'epoca c'erano ancora i treni a vapore comunque va bene e qua appunto dietro c'è il marchio originario tiffany co 925 lì ancora invece avevano ancora i bastoni quando 125 è il l'argento se io solo so e quindi questo è il bracciale adesso appunto vedrò al momento l'ho messo in questo modo poi magari vedrò se cambiarlo ottenerlo così comunque è generato questo è quello che abbiamo trovato allora i prezzi questo di tiffany il ciondolino l'abbiamo pagato dillo tu 100 euro eccolo ora calcolate che può essere tanto però dovete capire che il prezzo originario era tipo 230 30 visto da ebay perché sul sito tiffany non c'era probabilmente è un pezzo fuori produzione quindi ragazzi abbiamo risparmiato comunque 130 euro non è certamente poco è esatto mentre il portafoglio l'abbiamo pagato 79 in realtà avevamo i soldi sulla card appunto numerica dopo le quindi abbiamo pagato 74 quindi pagare 74 euro un portafoglio michael corso allora il portafoglio vi ripeto io adesso al momento adesso che sto registrando non lo so il prezzo comunque adesso una volta finito il video mi vado a vedere il prezzo originario e nel caso ve lo scriviamo qua da qualche parte così vediamo all'incirca quanto abbiamo speso calcolando che a serravalle c'è il negozio per chi è di serravallo zone limitrofe c'è all'outlet c'è appunto il negozio di michael corso quindi l'outlet di michael corso dove vendono le borse portafogli portacchiavi insomma di tutto e ragazzi lì costa veramente poco la roba c'è costa la metà se non più della metà alcune cose sono anche più della metà noi purtroppo in questo momento a serravalle come ben sapete non ci si può andare l'ultima volta che siamo stati a serravalle è stato mi sembra dicembre dell'anno scorso se non sbaglio eravamo andati appunto dentro il negozio dentro l'outlet c'era di tutto ragazzi ma ragazzi ci sbavavo tipo va bene questo è quanto quello che abbiamo trovato esatto e ripeto se qualcuno di voi ha dei mercatopoli in zona ragazzi andateci veramente andateci perché trovate dei pezzi apprezzacci originali di marca tra l'altro e niente ragazzi per questo video è quanto io ho finito di sproloquiare si diceci quale di due preferite visto che comunque sono due prodotti di marco se vi piacciono entrambi e lasciate un like a questo video penso che i prodotti lo meritino e quindi iscrivetevi anche al canale se vi fa piacere e noi ci vediamo alla prossima ciao